Un ragionamento scavuta, attenzione alla sicurezza, comunque sbancare in un certo modo significa che la risaccare, la risaccare, la risaccare, la risaccare, quindi il tema è ma questi alberi che hanno 60 anni, alcuni dei quali sono già malati, resisteranno, c'è un tema legato alla sicurezza, perché se poi cade un albero, ammazza un bambino, va sul tetto di una casa, fa male a fiscatena, legittima e sacrosanta, cerchiamo di approfondire. Ad oggi però gli approfondimenti, credetemi, non è che mi possono dire, anche qui, tappetino drenante, ma il tema è che queste radici sono fortemente penetrate laterali. Io posso mettere un altro drenante, ma se pescano i terminali dell'ora, con le case sotto, allora è lì, le associazioni ambientaliste di Forlì, a Forlì sei mesi fa, la giunta aveva deciso di tenere i vagolari, il tavolo dell'associazione ambientalista, quindi anche gli interventi che ha una sensibilità, dice no, sono totalmente inadatti, ma stanno tutti i vagolari, dopo di che a me piange un cuore, la decisione non è pregata. Manteniamo la soluzione per mantenere i vagolari, quindi vorrei far capire che il tema non è che... Grazie.